Siamo con il presidente Sergio Iacon, è arrivata questa sconfitta, primo tempo un po' difficile da decifrare, nella ripresa qualche miglioramento ma non si è riusciti a concretizzare con il gol del pareggio. È una situazione difficile, Sergio, come si può uscire da questo momento così delicato, direi, dove mancano risultati che possono anche dare coraggio e autostima? Penso che bisogna innanzitutto non perdere la testa, non fare analisi a caldo, quindi prendersi un minimo di tempo per fare la giusta analisi, le riflessioni e poi le conseguenti decisioni. Indubbiamente se ci limitiamo a parlare della partita, probabilmente abbiamo anche meritato di perdere, devo dire che non abbiamo visto una buona nissa, al momento siamo molto amareggiati, i primi a essere amareggiati siamo noi, abbiamo visto che giustamente i tifosi sono ancora più amareggiati, contestano ma hanno anche ragione. Io ho però la voglia di dire che se guardiamo ad una situazione generale, è un'annata che è cominciata male, nella quale noi stiamo facendo proprio una corsa ostacoli, perché non c'è una sola componente che rema a nostro favore. Ma io mi riservo di approfondire bene questi argomenti, perché quando parlo di questo mi riferisco anche all'assenza delle infrastrutture elementari per poter lavorare serenamente, ma ne parliamo prossimamente. Oggi ci dobbiamo assumere la responsabilità del fatto che stiamo andando male, che la classifica piange, però noi sappiamo anche che noi, parlo dirigenza, proprietà, abbiamo fatto grandi sforzi, perché mi sento di dire a voce alta che questa squadra non è una squadra economica, non è vero che è una squadra fatta per salvarsi, mi sento di assumermi questa responsabilità per lo sforzo che è stato fatto, questa è una squadra che dovrebbe poter fare un campionato tranquillo dalla metà classifica in su, e invece sta andando diversamente. Quindi probabilmente ci sono stati degli errori. Sergio, quanto può influire secondo te il fatto che questa squadra non ha avuto, diciamo fino a questo momento, una casa dove poter preparare le partite, allenarsi, quindi preparazione a riesi, poi si è stato il ritiro. Questa situazione del campo Pian del Lago che ancora ristagna, non si capisce come ancora questo stadio sia chiuso, nonostante ormai l'impresa ha consegnato da più di una settimana i lavori. Ecco, lavorare in queste condizioni è veramente complicato. È quello che dicevo poco anzi. Quindi è una Nissa che subisce danni in questo caso. La Nissa subisce danni, ma in questo caso è la Nissa società che subisce danni. Sì, appunto, la società. Però i risultati c'entrano poco con questo, perché io mi sento di dover precisare un ulteriore aspetto. Noi abbiamo messo lo staff tecnico, quindi anche quello di prima, quello di ora, e l'intero organico nelle migliori condizioni possibili. I giocatori hanno potuto fare un ritiro in assoluta tranquillità, non gli è mancato mai niente. Anche qui a Caltanissetta hanno tutti i comfort e credo che sono in una situazione che poche società in giro garantiscono. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo la legittima aspettativa di risultati positivi e, ripeto, i più amareggiati di tutti siamo noi, perché noi ci aspettavamo risultati diversi. Questo vuol dire che qualche errore è stato commesso. Non l'abbiamo commesso noi, perché i giocatori non li ho scelti io, ovviamente, Nelly ha scelto il vicepresidente o qualche altro socio, cercheremo di rimediare gli errori fatti e con l'esperienza cercheremo di non ripeterli. Mi sento solo di dire che il nostro impegno è di continuare a lavorare, perché le difficoltà si superano lavorando e non perdendo la testa. Perfetto, grazie. Allora speriamo bene per il futuro della Nisse. Speriamo bene, lo speriamo tutti.